L'Italia si ferma, un'onda lunga in tutto il paese, con blocchi e presidi anche nel Veneto, azioni di volantinaggio nei casi più pacifici come a Mestre, fino a blocchi veri e propri come nel Vicentino. Una rivoluzione annunciata già da un mese grazie al TamTam su Facebook, coordinata dalla LIFE ma alla quale si sono aggiunti i trasportatori, piccoli imprenditori e cittadini. Tutti in piazza, o meglio quasi tutti, perché i dati sulla manifestazione sono diversi da città a città. A Mestre il presidio è piccolo e nessuna azione è violenta. Un pacifico volantinaggio che rallenta il traffico, del resto i blocchi erano stati impediti dalle stesse forze dell'ordine. Noi vogliamo arrivare al punto di mandare fuori questi parassiti dal governo. Sono nostri dipendenti, li abbiamo pagati per anni e non hanno mai risolto niente. Ci hanno ridotto, come ormai tutti sanno, in maniera disperata e vogliamo mandarli a casa. L'Italia ha detto basta, a casa, licenziati. Su Facebook intanto continuano tutti i manifestanti a postare commenti, video e foto. A Torino la polizia si toglie i caschi, come ad unirsi con i manifestanti che chiedono tutti a casa. Senza compromessi né pause, perché i presidi andranno avanti ad oltranza e gli effetti probabilmente si vedranno nei prossimi giorni, quando cominceranno a mancare i generi di prima necessità. In tutta Italia sta andando forse anche meglio di qui, perché è molto difficile spostare la gente. Tutti quanti sono d'accordo, tutti quanti dicono sì ci siamo, poi o per il freddo o per altro è fatica, però guarda stanno arrivando piano piano, come promesso il popolo che ha detto basta, piano piano arriva.